Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi cosa ho fatto oggi. Oggi per un cliente ho realizzato un kit cielo stellato per presepe. Il cliente ha commissionato un pannello da 130x35, colore blu, con 100 punti luce, parliamo di fibra ottica. Questo, ragazzi, è il pannello che oggi ho realizzato. Eccolo qui, 130x35 cm. Verniciato, come vedi, con un effetto cielo. Diciamo che mi sono anche impegnato. È venuto molto molto bello. Vediamo se riesco a mostrartelo così. Eccolo qui. Come vedi ci sono i fori dove quel cliente andrà a inserire la fibra ottica. Dietro è bianco. Da qui si vanno a mettere tutte le fibre ottiche e incollarle per poi accenderle tramite il gruppo luce che è fornito in dotazione. Ti mostro ora le fibre ottiche. Queste, ragazzi, sono le fibre ottiche. Questa è la frusta con fibre ottiche di sezione differente. Più grande, più piccolina. Eccole qui. Perfetto. Questa funziona a bassa tensione. Lunghezza è circa meno di un metro. Comunque il pannello è piccolino. Installandolo al centro ricopre abbondantemente tutta la superficie. Per quanto riguarda la personalizzazione, questi sono kit personalizzabili in molti aspetti. In numero di fibre ottiche, cioè numero di stelle, colore della luce. Questa è luce bianco-fredda in dimensione del pannello. Colore anche del pannello. Perché poteva andare a farlo anche in colore nero. Però blu sta bene. Questa, diciamo, verniciatura con l'aerografo fa anche un effetto molto più bello. Molto più elegante. Che mi ha soddisfatto davvero tanto. Te lo faccio vedere acceso. Aspetta un attimo che te lo faccio vedere acceso. Ok. Questo è il fascio di fibre ottiche acceso. Eccolo qui. Come vedi, ha le punte illuminate. Ascendo ancora come luce. Uno. Vediamo se così riesco a farti vedere qualcosa. Questo è il fascio di fibre ottiche. Eccolo qui. Come vedi, si illumina la punta. Questo il cliente dovrà andarla a inserire dentro i fori. E poi da lì andarlo a tagliare dopo che lo ha incollato. Ci sono due sezioni. Più grosso e più piccolo. Eccoli qui. Alimentazione a bassa tensione. Per informazioni comunque puoi sotto contattarmi. Per questo video ragazzi è tutto. Ciao e al prossimo video. Ciao e al prossimo video.